E certo allora, pronti a questa tragedia, sale la grande domanda, dov'è io in questo momento? Sentivo le ambulanze che andavano e venivano, sentivo e non capivamo che cosa fosse. Abbiamo pianto tutti per ore e per giorni. Come si fa a non essere arrabbiati, perdere delle famiglie così, che andano a godere dopo tanto tempo e poi morire. Bambini, ma scherziamo. Speriamo anche che le dà una bella contanna adesso, che le fanno pagare tutto. Io ero in quella famiglia, è stato schiacciato ancora una volta come sulla cruce dall'ingiustizia uguale. In nome del Dio denaro che si riesca a fare arrivare a questo punto è veramente una cosa incomprensibile. Come possano vivere queste persone adesso, avendo sulla coscienza la morte di 14 persone, è una cosa... E' di un bambino che non ha più la mamma e il papà, perché comunque è così. Penso che tutti gli stresiani si sentano in lutto, da parte mia a tutti, è una cosa tremenda. Come fai ad aspettarti una cosa del genere? È inammissibile. È proprio l'11 settembre di stresa. Come fai ad aspettarti una cosa del genere.